Era qui con un rappresentante dei marchi di qualità italiani e quindi per noi era importante fare una bella figura. Lui ci teneva molto, chiaramente sono questioni che capitano in una grande città e sono sempre dolorosi perché sono fenomeni di violenza e quindi legati alla sicurezza, quindi evidente. Poi c'è un problema aziendale, nel senso che per ragioni di mercato questa azienda in particolare che fa un marchio di qualità italiano e oltre che un'impresa campana da sempre ad Afragola che riguarda l'aceto balsamico, ha una sua attività in Emilia Romagna, ha una sua attività molto forte in Campania e chiaramente per problemi di localizzazione di scelte perché quell'area avrà uno sviluppo diverso legato ai trasporti, c'è la stazione di testa dell'alta velocità, bisogna fare altre cose. Noi stiamo lavorando per dire come si succede in tutte le regioni virtuose. Se un'azienda vuole delocalizzarsi, deve sapere dove vuole andare, bisogna sostenerla perché sono posti di lavoro e sono marchi di qualità.